presentare il nostro special guest we have a special guest tonight quindi prima l'applauso a scatola chiusa, per favore anche in Italia suoniamo questa musica e cantiamo questa musica e stasera abbiamo un bluesman che è sotto mentite spoglie però io ve le disversa la musica che tutta ha queste spoglie perché veramente sono molto contenta di presentare questo personaggio che è un po' il top gun della Maremma Toscana è arrivato da poco nella nostra terra un paio di anni credo sarà un altro annetto con noi e speriamo di ascoltarlo da stasera anche altre volte perché veramente ho avuto modo di apprezzarlo veramente un'energia straordinaria fra parentesi come seconda scelta fa anche il comandante del quarto stormo dell'Arenautica ma questa è la sua seconda personalità quella vera è, ripeto, un bluesman ragazzi e ragazzi, benvenuti mister Michele Morelli capitano sono capitano dopo questa presentazione speriamo di al massimo se mi licenziano farò qualcosa altro all right guys, are we ready? one, two, one, two, three oh by the way is now improvvisando tutto oh by the way Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.